Comunque, salve a tutti, sono Luca, come ha detto Matteo, fondatore, uno di quelli che diciamo all'inizio voleva far parte di RomaGS, mettiamola così. Cosa vi presento oggi? Configuration Management, volevo far partire la presentazione, vediamo se funziona, se funziona. Perché parlo di Configuration Management? Non lo so se lo sapete, ma i vostri ambienti sono pieni di configurazioni, avete configurazioni un po' ovunque e quando scalate forse è il momento di iniziare a gestire questa configurazione in maniera un po' più avanzata. Qualche esempio di configurazione. La configurazione sta nelle vostre applicazioni, un semplice esempio sono le variabili d'ambiente, ma anche le configurazioni che è cariata all'interno dell'applicazione sono configurazioni stesse. Sta nel vostro database, sicuramente quando avete un database avete il vostro file di configurazione dove mettete gli username, magari iniziate pure con delle tabelle, dipende dal database. Sta nei vostri componenti software, nel come configurate i componenti software, il numero di repliche, le dimensioni del database. Sta nelle vostre macchine di sviluppo, NPMRC penso che lo conosciamo tutti, la configurazione di AWS, la configurazione di SSH, scusate se gli esempi sono più verso il DevOps, ma ultimamente quello sto facendo. Sta nel vostro codice, penso che SSLint, se non SSLint potete usare per T5 o quello che volete, sta nei vostri Gitignore, nei vostri Editor Config, sta in GitHub e GitLab. Non so come gestire voi i repository, i tag collaboratori, ma quello che noi abbiamo fatto con l'andare avanti del tempo abbiamo creato degli script per gestire i repository, i tag collaboratori, e quindi anche quello è guidato dalla configurazione. Sta nelle vostre pipelines. Si parlava di CI, le pipelines, è vero che le potete scrivere as code, ma molti sistemi di pipeline vi permettono di scrivere pipeline come YAML, per esempio. Non so se avete provato a scrivere pipeline come YAML, c'è un sacco di ripetizioni, non vi rendete conto quante volte dovete ripetere le stesse cose in maniera identica. Ora, sembra che la configurazione, più andiamo avanti e più, sta diventando una vera e propria tendenza, e sta diventando una tendenza anche nella gestione degli ambienti. Un esempio classico di ciò è Kubernetes. Non so quanti di voi conoscono Kubernetes, ma è un sistema, diciamo, di gestione dei container, forse dirlo così anche in maniera riduttiva, ma è una vera e propria piattaforma che vi permette di fare deploy di applicazioni anche abbastanza complesse, basate su Docker containers. Tutto ciò che voi deployate su Kubernetes è descritto attraverso configurazioni, cioè voi usate dello YAML, che poi viene trasformato in JSON, ma comunque sia usato dello YAML. Quindi potete dire a Kubernetes, tramite lo YAML, voglio questo container replicato n volte con questo tipo di proprietà, con queste variabili d'ambiente, eccetera, eccetera. E vedete che anche qui è configurazione, è testo, è prolisso, ci sono ripetizioni, eccetera, eccetera. Perché? Perché vogliamo usare la configurazione? Naturalmente lo sappiamo che usare, diciamo, configurazione è cosa buona e giusta, perché? Per non complicare il codice. Non vogliamo scrivere nel codice, vogliamo usare l'URL1 in dev e URL2 in production. Vogliamo semplicemente astrarre, vogliamo dire al codice, guarda, esiste un URL, tu vai lì e l'URL arriverà da fuori. Quel da fuori è configurazione. Vogliamo cambiare il comportamento senza rilasciare il nuovo codice. Dobbiamo connettere, non lo so, dobbiamo fare due cose differenti al codice, possiamo passare di un parametro di configurazione e quello cambia il comportamento, senza dover, diciamo, fare due rilasci o cose del genere. Avere più stanze dello stesso codice con comportamenti differenti, di nuovo, più repliche, più uso di memoria, quello che volete. Meno logica, più intenti, meno codice, più, diciamo, l'obiettivo. Esiste addirittura una vera e propria pagina sul sito di IBM, che se vuole cercare come configuration driven development, vi fa effettivamente vedere come questo qua è diventato un modo per guidare lo sviluppo. Ora, come gestiamo, o come la gestiamo questa configurazione? Perché logicamente più configurazione usiamo, più diventa necessario gestirla. Sembra semplice all'inizio, perché all'inizio vi create il vostro, non lo so, gitignore, e cominciate a mettere all'interno dei file, ma poi quando avete 25 repository, vi trovate che in un repository avrete un tipo di gitignore, nell'altro ne avrete un altro, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per gli editor config. Lo stesso vale per le pipeline, se dovete aggiungere uno step di build container su tutte le pipeline, e non l'avevate aggiunta all'inizio perché facevate girare soltanto i test, ecco che vi ritrovate a cambiare, non lo so, 50, 100, 200, 300 pipeline, dipende da quanto il progetto è grande. Se volete aggiungere un tag a tutti i repository GitHub, right? Ora cosa fate? Dovete andare repository per repository, aggiungere il tag manualmente e continuare così. Ecco, tutte queste cose possono essere gestite con un po' di automazione e un po' di configurazione. L'automazione la scrive una volta e è for per ogni repository via Campbell tag. La configurazione dovrà listare tutti i repository, tutti i tag, eccetera, eccetera, eccetera. E vedete che stiamo spostando, diciamo, la complessità dal codice, che fa solo un for loop, a la configurazione, che dovrà listare tutti i repository, dovrà listare tutti quanti i tag, eccetera, eccetera. Quindi a quel punto avviene la necessità di gestire la configurazione. Avviene la necessità di trovare un modo per prendere questa configurazione ed espanderla, cambiarla, e modificarla. Cosa vuol dire? Vuol dire che esistono degli strumenti che dobbiamo creare, o comunque sia, dobbiamo utilizzare degli strumenti per fare questa cosa. E questi strumenti in parte già esistono. E in parte già esistono, si chiamano server di configurazione, ci sono vari server di configurazione, tra cui alcuni che erano stati già girati, già, diciamo, condivisi nel canale Slack di Roma.js. Esistono dei sistemi di patching, che cosa sono i sistemi di patching? Sono veri e propri tool che ti permettono di andare in giro per il codice, gli date cosa quel sistema deve matchare, cosa deve andare a... Mamma mia, c'è un buttissimo. Cosa deve identificare e applica una patch a quello. Quindi, che ne so, trovi tutte le stringhe che iniziano per dev, e cambiamolo in development. E quello fa il patch di queste cose via per via. Esistono sistemi di templating, cioè, logicamente, potete creare dei template da zero e il template viene generato. Un esempio è per i .editorconfig o i gitignor, eccetera, eccetera. Voi create il template e quel template, logicamente, vi poi manda in output quello che vi serve. Esistono dei libri, dei libri che mettono insieme le varie cose e vi permettono di modificare, diciamo, i vari comportamenti. È logico che ognuno di questi ha dei pro e dei contro. Personalmente non sono un grande fan dei server di configurazione, perché, ad esempio, alcuni server di configurazione lo offrono, però non tutti. Avete problemi con il versioning, avete problemi con la visibilità, perché, logicamente, dovete dare accesso al sistema di configurazione a tutti i vostri utenti. Avete problemi con il fatto che, quando andate lì, dovete, siete limitati dal tipo di interfaccia che quel server vi dà, dal tipo di visibilità che quel server vi dà, inteso come potete vedere una configurazione alla volta, oppure, insomma, non siete padroni della UI, avete una limitazione per quanto riguarda il tipo di accesso che potete fare alla configurazione, perché siete limitati dalle API che il server di configurazione vi dà. La stessa cosa per i sistemi di patching. I sistemi di patching sono belli, però, di nuovo, sono abbastanza complessi, perché voi dovete scrivere, non che quello che vi voglio rappresentare io è meno complesso, però in questa maniera voi dovete sapere esattamente cosa matchare, cosa trovare in ogni singolo punto in cui andate e che tipo di modifica applicare, spesso con risultati anche disastrosi, perché lo sappiamo tutti che quando dobbiamo scrivere una regex, una regular expression, non siamo i migliori. I sistemi di templating, invece, mi piacciono un pochino di più, perché vi permettono di partire da zero ogni volta e ricreare il file da zero. Cosa vanno a risolvere tutti questi? Vanno a risolvere problemi di ripetizione, i problemi di dover ripetere la stessa cosa, soprattutto il sistema di templating, più volte. Ora, cosa mi piace a me? Andiamo direttamente alla ciccia. Io preferisco il templating e preferisco il templating associato al GitOps. Non so quanti di voi conoscono cos'è il GitOps. Il GitOps è gestire le operazioni della vostra infrastruttura, se volete, attraverso Git. Git ha delle primitive abbastanza semplici, ha le pull request, ha i commit, ha il master, eccetera, eccetera, e ha anche degli eventi, quindi potete dire quando qualcosa cambia master, quando viene aperto una nuova PR, e quello che si fa è si gestisce. Tra l'altro ha anche un buon sistema, scusate, di permessi, perché logicamente voi potete dare accesso al master solo ad alcuni sviluppatori, potete dare accesso ad alcuni repository solo ad alcuni sviluppatori, e tutto ciò vi permette di gestire, tramite gli eventi, i mergi, eccetera, eccetera, operazioni nella vostra infrastruttura. Ora, non solo nella vostra infrastruttura, ma anche nella vostra configurazione. Quindi, cosa vi voglio far vedere oggi? Vi voglio far vedere un tool che noi già usiamo nel mio lavoro. Ora, questo tool che vi farò vedere, purtroppo, siccome nel mio lavoro, diciamo, non sono autorizzato a condividere ciò che faccio, l'ho rifatto nel fine settimana, quindi è pieno di bug, perché l'ho messo proprio insieme velocemente, però vi voglio far vedere qual è l'idea di attra questo tool. Quindi, demo time, vediamo, speriamo che le cose funzionino, sono stato a modificare il tool fino a due secondi fa, infatti ringrazio chi ha parlato prima di me per essere, diciamo, per aver parlato per tanto, almeno sono riuscito a fixarlo il più possibile. Cosa è questo tool? Io qui l'ho chiamato Templator. Templator, diciamo, che fa? Crea template, logicamente, ma ha dei concetti in più. Templator ha questo concetto qua. Noi abbiamo una cartella di configurazione, ok? La possiamo chiamare base. All'interno della cartella di configurazione abbiamo, ditemi se devo ingrandire, che non si vede. Sì, Luca, se zoom in mezzo, ma... Infatti, quello che stavo pensando, stavo cercando un attimino la chat per vedere se c'è bisogno, perché si è risultato, bellissima cosa. Ok. Che sta facendo? Cosa fa? Perché? Un po' sì, un po' no, un po'... No, ma poi ha cambiato pure, l'hai visto che ha fatto? Ha pure cambiato... Sì, sì, perché si usa quello scuro adesso? Si aiuta nel vedere meglio. Vabbè, non lo so perché l'ha fatto, ragazzi, però adesso ce lo prendiamo così. Dai un altro control più e siamo a posto. Ok. Mi ricambia tema se faccio... Ok, perfetto. Meglio? Perfetto. Ok. Peccato che così si vede meno la shell, però va bene, adesso vediamo. Questo tipo di sistema ha tre concetti principali. E scusate, seguitemi perché non sono riuscito a chiarificarlo di più. C'è un, diciamo, il contesto. Che cos'è il contesto? Il contesto sono i dati veri e propri, la ciccia, cioè i vostri dati di configurazione, il nome delle cose, i valori delle cose, eccetera, eccetera. Ci sono i template, ok? Che sono... In questo caso ho usato un nunchuck, che non fa altro che prendere questo tipo di sintassi, ok? È un sistema di templating. Potete usare mustache, potete usare quello che volete. E poi ci sono i mapping. I mapping sono forse la cosa più interessante qua. I mapping vi permettono di definire una serie di locations dove andare a mettere i template. E vi dicono quale parte del contesto applicare al template. Ora, non so se mi avete seguito, ma vi faccio vedere come funziona questa cosa. Il contesto è un file JSON. Poi andiamo a vedere come espandere questo file JSON. Il file JSON contiene tutto quello che voi avete, ok? Tutti i dati che volete mettere qui dentro. È development, staging, production, e poi ci sta l'environment, qual è il nome dell'environment, i componenti che avete in ogni environment. Questo è puramente inventato. Immaginate che potete scrivere qualsiasi cosa in qualsiasi con JSON. Quello che potete fare con TP, il famoso templator, per ora ha tre comandi. Ha show context, con un context selector, render, sorry, render mapping, con un mapping e un context selector, render, con un mapping e un context selector, ok? Ora, se io do TP, show context, quello che noi teniamo indietro è semplicemente il contesto. Ora dice, vabbè, però che hai fatto? Nel senso, potevi semplicemente prendere quel contesto e farmelo vedere. Poi vediamo perché questa cosa serve. La prossima cosa che posso fare è render mapping, diciamo con base. Base è qui, è questo mapping qui. Naturalmente il tool sa dove trovare i mapping con convenzioni. Posso semplicemente dare invio. E ecco che lui mi fa vedere il mapping, che è questo, lo apro sopra. renderizzato, renderizzato non vuol dire nulla, perché qui non c'è nulla da renderizzare. Posso fare render invece che render mapping e mi dà questo. Allora, cos'è successo? Lui è andato attraverso queste location, ha preso ciò che c'era qui, ha preso il template, si è andato a prendere il template, ha applicato questo contesto, dot significa applica lo stesso contesto che stai applicando al mapping, e mi ha renderizzato, mi ha fatto il rendering di quel template. Ok? Ora, fin qui sembra una cosa stupida, non è che ha fatto niente di avanzato. Se io passo meno h, lui dovrebbe farmi vedere in human readable format che ha preso questo template qui e guardate qui cosa c'è successo. Mi dice, questo è di tipo keylab, il repository è config e il path è config.json. Quindi che ho preso? Ho preso base.njk, base.njk, e l'ho trasformato in config.json. Ora, in questo tool, siccome l'ho fatto nel fine settimana, come ho detto, manca uno step. Nel nostro tool che abbiamo noi al lavoro, questo tool qua può già aprire una pull request. Vuol dire che, con questa cosa qua, voi prendete, lo fate girare, e lui apre una pull request nel repository config, in questo file qua, con questo contenuto. E fino a qui, voi di nuovo dice, vabbè, ok, grazie, però bastava che prendevi questo, lo mettevi all'interno di quel repository, e l'avevi fatto. Sì, è vero, però c'è una cosa carina qui. La cosa carina è che io posso andare avanti. Abbiamo detto che render prende un mapping, e prende un counter selector. Quindi, se questa cosa funziona, e io faccio development, quello che ottengo, in questo caso, non è più quello che avevamo visto prima, ma è soltanto la parte di development renderizzata, scusate, adesso logicamente confondo le opzioni con quello che abbiamo al lavoro. Vedete che in questo caso, io ho isolato soltanto la parte di development. E voi dite di nuovo, va bene, grazie, ma alla fine che cosa hai fatto? Non hai fatto molto, perché Ristell Hava 12, comunque sia, questo va a finire in config. Adjson va a finire in config, se tu lo fai per tutte e tre, ti vai a sovrascrivere il file. E è qui che noi andiamo a vedere l'environment, diciamo, il secondo file di mapping. Quello che voi potete fare all'interno del file di mapping è avere più locations, ok? Avere più location significa che voi potete definire una destinazione per ogni environment, ok? Qui c'è development, e possiamo fare quello che abbiamo visto prima, ma possiamo creare tre file differenti. Ora, voi avete visto che prima ho annunciato render di base con development. Ora, io se faccio questo non vado da nessuna parte, ma se il content selector lo passo al template qui dentro, vedete che è lo stesso base.njk e development, quello che mi succede è che quello che ho renderizzato qui, ok? Quello che ho renderizzato in questo punto qua, viene renderizzato qui. E quindi voi vedete subito che quel contenuto è all'interno di development.json. Ora, proviamo a farlo, perché parlare va bene, ma environment. e quando io non passo niente, lui, scusate, adesso ritorno a quello di sopra, un attimo, quando io non passo niente, lui, oddio, ho salvato, ho rotto qualcosa. Infatti, meno h, no, non ho rotto niente, proprio il mit, eccolo qua. Se lancio questo, vedete che in questo momento lui ha generato, in teoria, logicamente di nuovo, tre PR, tre pull requests, una con development.json, una con staging.json, e una con production.json. E fino a qui voi di nuovo direte, va bene, ok, ma grazie, nel senso, potevi prendere questi tre file e buttarli lì. Per carità, è vero. Ora, è anche vero che qui ho ripetuto un sacco di cose, quindi quello che non ripetevo da una parte lo ripeto dall'altra. C'è un piccolo dettaglio qui, non so se avete notato, ma anche i mappings finiscono per njk. Quindi anche i mapping sono template, quindi se noi andiamo a vedere, e scusate se vado veloce, ma ci sono da mia moglie e le figlie che stanno girando, mi uccidono se non vado. Se noi andiamo su environment 2, vedete che anche il mapping è un template. Che cosa vuol dire? Che io posso prendere quello che avevo prima, environment, questo, che è verboso, ha un sacco di ripetizioni e tutto quanto, e trasformarlo in questo. Perché? Perché this è il contesto attuale, quindi è il contesto globale, o quello che io passo al mapping. Fado per ogni environment e ogni environment data, questo lo posso pure ignorare perché non mi serve, e ricreo esattamente quello che avevo qui, cioè ricreo development e development.json, ok? Eccetera, eccetera. Quindi se io vado, anzi, vi faccio vedere questo, se io faccio render mapping qui, con environment, questo è quello che ottengo, ok? Se io lo faccio col 2, ottengo esattamente la stessa cosa, ok? Solo che mi sono risparmiato un sacco di ripetizioni. Quindi se io rilancio il comando di prima con 2, ecco che ottengo la stessa cosa di prima, ok? Ottengo la stessa cosa di prima, però ognuno di questi è staging, eccetera, eccetera. Posso fare di più. Se noi, diciamo, abbiamo diversi repository per questo, perché magari noi vogliamo mantenere l'isolamento di accesso, posso fare questo. Posso fare, posso spostare l'environment nel repository, la path la faccio diventare config.json, lancio di nuovo questo, e quello che succede è che in questo momento sto prendendo una PR in config production con config.json, ok? Vedete quanto la configurazione è diventata più malleabile, malleabile, scusate. Vedete come questa cosa la posso facilmente o relativamente facilmente trasportare ai famosi dot editor config o dot giving norm, ok? Se io nel contesto avessi la lista di tutti quanti i repository, e avessi tag qui, potrei andare per tutti i repository, potrei avere un gitignor dipendente dal tipo di repository che è, e potrei far aprire PR ogni volta ricreando il gitignor con tutto il contenuto che voglio. Ora, di nuovo, questo è un semplice JSON. Possiamo andare più avanti di così, possiamo andare di sotto e andare al componenti. E di nuovo, scusate, se vado veloce, se fossimo stati live mi avreste potuto interrompere quando volevate, così è un pochino più complicato. Essendo questo un template, scusate, essendo il mapping un template, quello che posso fare è andare ancora più in profondità. Posso dire per ogni ambiente con i dati dell'ambiente e per ogni componente con i dati dei componenti, renderizzami i componenti, ok? Vai più a fondo, cioè fammi vedere all'interno della configurazione di quest'environment crea un file con il nome del componente che se noi andiamo a vedere il contesto è, diciamo, application and database, quindi voi avete un application.yaml e un database.yaml. il context selector può diventare più complesso e scusate di nuovo, qui ci vorrebbe più il tempo per farvelo vedere. Potrete partire da una base, quindi potete usare, ad esempio, come base, in questo caso, è development, quindi questo, components, qui, component, application or database, quindi vi si posiziona in questo qua, in questo punto qui, e potete usare assign, e questo usa lo dash, quindi è come se fate lo dash punto assign, potete assegnargli environment and, quindi in teoria voi espandete questo contesto qua aggiungendo una key, una keyword environment con l'environment in cui siete. Questa cosa qua, quindi, questo oggetto qua con all'interno environment, eccetera, eccetera, verrà passato al template, template, che in questo caso è component.njk, se vado nel component.njk, questo è quello che potete fare, potete dire, per ogni key value, ok, all'interno di questa cosa qua, fammi vedere il component, ora, io questo qua non l'ho provato, perché ecco, lo sto ancora fixando fino a poco fa, vediamo che succede se lo rancio, infatti si è rotto, perché si è rotto, components, forse non si è rotto, se siamo fortunati, eccolo qua, vedete che con poco ho creato all'interno del configuration production, un component, components.database.yaml, un components.application.yaml, e questo ha replica 3 environment production e quest'altro ha size 3 environment production. Se andate su, li vedete tutti, ma ognuno sta su un repository differente all'interno di un file uguale. Possiamo semplicemente prendere questa cosa e espanderla a quello che volete. La cosa fantastica di ciò è che cambiate il template o il template mapping una volta o aggiungete environment, environment, ok? Fate conto che domani aggiungete un environment. Ve lo immaginate a ricreare tutte quante le cose? Ecco, qui, aggiungere un environment si tratta di fare questo. Si tratta di fare questo, di lanciare il componente che naturalmente viene lanciato dall'automazione, non da voi, e da qualche parte qui dovremmo avere il nuovo more. Praticamente non c'è. Staging, perché non ho salvato, magari, se Luca salvasse. Eccolo qua. Avete appena raggiunto, non avete soltanto aggiunto un environment, giusto per capirci, avete appena creato tutta la configurazione necessaria per il nuovo environment. Questo naturalmente è lo step iniziale, perché poi da qui voi dovete aprire la core request, dovete continuare a portare avanti le modifiche fino a magari mandare le modifiche in produzione, eccetera, eccetera, ma è una cosa semplice. La cosa ancora più avanzata che abbiamo fatto noi è associare tutto ciò a, diciamo, azioni più avanzate. Ad esempio, nel nostro sistema context può avere sia json che file yml. Ora, vi ho detto, questo qua sembra semplice come context, ma questo context parser, cioè, quando io faccio show context, lui non fa soltanto, non va a prendere soltanto il json che c'è e ve lo fa vedere, ma fa di più, fa questo, ora ve lo faccio vedere live, va a fare development, new folder staging, new folder production, ok? Ora, se io prendo queste cose qua e all'interno creo un nuovo file, base.json, lo potete chiamare come volete il file, ok? Adesso io lo chiamo base, ma lo potete veramente chiamare come volete. Ok? E poi faccio questa cosa qua, vado a prendermi questo base, copy development, copy, anzi, lo taglio proprio, e lo metto dentro development, copio, staging, anzi, lo taglio proprio, e lo metto dentro staging, forse è tutto, grazie, perché fai queste cose editor, staging, lo metto dentro staging, e prendete production e lo metto dentro production, logicamente, però more l'ho lasciata all'esterno, va bene anche così, production, lo mettiamo dentro production, e vado a rifare show context, lui mi dà lo stesso contesto che avevamo visto prima, ok? Identico, non è cambiato niente, lui va a seguire le directory, ignora il nome del file, in modo che possiamo mettere più file all'interno dello stesso sistema, ad esempio, se io qui volessi fare new file, è spostare l'environment, lo sposto qui, quindi io che faccio? Prendo questo environment qua, lo tolgo da questo file, e lo metto qui dentro, lui fa comunque anche il merging di questo, e se io faccio di nuovo show context, dovremmo andare a vedere che development ha comunque il valore environment. Ora, sembra una cosa che non serve a niente, ma vi faccio vedere un utilizzo che noi ne facciamo. Se voi siete all'interno di development, ok? E volete avere, e questa cosa con JSON non funziona, come ho detto, nel nostro sistema questo tool sa anche fare parsing di YAML, però ve lo faccio vedere qui, versions.json, ok? Facciamo conto che voi avete questo, e avete application v1.0.0 e non lo so, database v2.0.0, ok? Voi non avete fatto altro, e magari possiamo fare anche qui così, possiamo fare versions. Ora, in effetti avete fatto altro come immaginate che aggiungere questa, queste informazioni al contesto, ok? Molto semplice, fate show context e ce l'avete nel contesto, eccole qua, ok? Ora, immaginate di questo, immaginate di annotare questo con renovate, se JSON supportasse i commenti, ecco perché YAML, ok? Edite renovate, aggiornami questo. Adesso avete renovate che vi apre una pull request su questa versione ogni volta che qualcosa cambia. e lo potete fare anche su quello sotto. Quindi, non state gestendo soltanto la configurazione, state gestendo anche il sistema di rilascio, aggiornando automaticamente le varie versioni dei vari sistemi nei tre differenti ambienti, perché un file separato? Perché quando renovate vi apriera PR, vi andrà a cambiare soltanto quel file, ok? Quindi potete tracciare, oltre a questo, potete tracciare tutti gli aggiornamenti che avete avuto di tutte le applicazioni, tutti i bump che avete fatto vedendo su GitHub, perché questo è in GitHub, la history di cambiamenti a quel file, ok? Ogni volta che questo succede, ogni volta che questo viene immergiato in master, viene fatto il merge in master, la CI va a lanciare uno dei componenti, uno dei mapping, e vi va a aprire una PR nelle configurazioni, ok? Quindi, qui potete fare il merge quasi automaticamente, ma poi nei repository destinatari potete fare o auto-merge con auto-merge oppure potete andare a fare review e non solo potete fare review o auto-merge ma potreste fare merge automatico in development and staging e in produzione, prima di fare il rilascio, far approvare a qualcuno il merge, ok? Noi con questo gestiamo moltissima configurazione, come ho detto gestiamo anche i repository di GitHub, ok? Abbiamo qui sul contesto i repository di GitHub ma facciamo ancora di più, gestiamo la nostra configurazione locale, siccome all'interno del contesto abbiamo tutte le informazioni su gli account che usiamo, gli URL, gli account ID, è stato semplice per noi creare un nuovo template, ok? Che non va a fare altro che fare il templating della nostra configurazione locale, ad esempio la configurazione di AWS e la fa a fare commit su un repository che sono i nostri .file da cui poi possiamo creare le nostre configurazioni locali. Quindi ogni volta che noi aggiungiamo un account, non facciamo altro che, come vi ho fatto vedere un ambiente, andare nel contesto, aggiungerla, fare il merge da PR e lui automaticamente ci apre le PR in tutti gli altri posti in cui quell'account è menzionato e ci aggiornare la configurazione ovunque. e con questo ho finito. Ora, questo tool templator ho l'intenzione di forse finirlo un po' meglio e metterlo open source perché purtroppo come vi ho detto adesso fa veramente pena però se riesco qualche test c'è già. Se siete interessati più che contento di condividere con voi questa cosa e con questo ho finito. Spero vi sia piaciuto. Grazie. Grazie Luca. Infatti molta non era passata questa cosa dello script fatto da te che era la versione poi interna e quindi molti hanno chiesto se fosse open source o dove trovare perché c'è un templator su GitHub e magari non è quello. Però ve lo condivido volentieri e creiamo un po' di documentazione intorno se vi interessa questa cosa. Naturalmente mi trovate sullo Slack di Roma.js quindi venite sullo Slack di Roma.js e ne parliamo volentieri. Io vi posso dire che personalmente nella nostra azienda ne stiamo beneficiando in maniera immensa. Però non ti sei presentato all'inizio a parte le mie due righe veloci quindi magari qualcuno non sa perché riesce a nascondere così bene l'accento di Orte con quello di Oxford come no scusate se mi è uscito qualche parola in inglese però purtroppo lavoro in inglese principalmente quindi faccio fatica qualche volta e non lo dico per essere snob è la verità scusate se sono sembrato snob lavoro per Nierform che è una società irlandese per fortuna però non si sente neanche l'accento irlandese voglio dire ok non so se ci sono domande ce n'è una di Alessandro te la mando qui dovresti vedere eh sì volendo sì sì argomenta un minimo per ma non cioè non per chi non è del sede del campo questo questo è più di è più di quello nel senso che è più di 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 infrastruttural code è questo è configuration è semplicemente gestione la configurazione ok quello che ci fai è è è oltre l'infrastruttural code noi abbiamo cercato di se questo è quello che intendi per EAC right questo è quello che so io con EAC infrastructure code è la parte finale dove tu prendi questa configurazione io ad esempio creo questo sistema anche i file Terragrant che sono per guidare la l'infrastruttura ma come ho detto con questo puoi creare i tuoi git ignore puoi creare gli editor config puoi configurare il tuo ambiente di gilab naturalmente tutta la configurazione che tu crei da qui va poi data in pasto a qualche altro sistema ok tu crei il git config e quello che viene sotto dal tuo editor non è detto che con questo tu non possa creare script perché vuol dire perché nel linguaggio di templating quello che ti va a far uscire è test ok ci fai quello che vuoi è semplicemente questo è semplicemente un sistema di gestione della configurazione io lo chiamo templator perché in realtà diciamo fa templating però nell'altro diciamo nel mio lavoro lo chiamiamo config builder quindi il costruttore di configurazioni ti passo la domanda di guido ecco questo è esattamente server centralizzato esattamente come renovate renovate può girare sia su un server centralizzato che su semplice CI che significa che noi abbiamo semplicemente una pipeline con 25 job che ognuno dei quali fa girare uno di questi comandi ti fa girare il tp render e qualunque cosa tu vuoi renderizzare quindi la CI ogni volta che va a monitorare la CI il mapping quindi non lo so noi abbiamo fatto components facciamo girare questa cosa l'ho appena rotto non so perché va bene quello che vuoi però components tu fai girare l'ho rotto non mi chiedete perché l'ho rotto ma l'ho rotto i commenti nel Jason ah sì è vero è quello bravissimi quindi niente tu lo fai girare noi quello che facciamo è che siccome noi sappiamo che e ora si è bloccato tutto siccome sappiamo che quel mapping è quello che cambierà può cambiare il mapping o può cambiare il template o può cambiare il contesto ok quello che noi facciamo lo facciamo girare ad esempio per environment abbiamo tre tipi di CI e gli diciamo creiamo naturalmente creiamo il mapping in modo che prenda come input l'environment e poi gli diciamo la CI file monitoring su quel template mapping file monitoring su quel template file monitoring su quel branch del contesto ecco un altro motivo per dividere il contesto in cartelle così gli puoi dire la CI monitora soltanto la cartella development quando qualcosa cambia in uno di questi tre posti rifai girare il comando tp render component e con l'environment in cui sei ad esempio development ok questo funziona io lo faccio vedere con base logicamente quindi che ne so la CI di dev farà girare questo comando la CI di production farà girare questo e la CI di staging farà girare staging questo è quanto questo è come lo facciamo girare noi puoi farlo girare su un server centrale logicamente se vuoi però la CI ti dà già tutte le funzionalità di monitoring eccetera eccetera che io personalmente non trovo malaccio questo tp è scritto in node è scritto in node si è scritto in javascript voglio dire altrimenti non lo presentavo qui no volevo quasi scriverlo in python quest'altro che sto scrivendo giusto così per divertimento però ho pensato lo presento su Roma.js nel fine settimana dico mi posso mettere a scriverlo in python mi sembra un po' una bastardata vabbè intanto non hai fatto vedere il codice sorgente quindi ma io il codice sorgente stingo posso farlo pure vedere però ve lo dico appena perché ecco questo è il codice sorgente ci sono ma in realtà non sono neanche troppe righe di codice perché sono delle classi che sono abbastanza pure astratte c'è una cosa in javascript volendo non ho fatto in tempo a farvi vedere tutto ma noi potremmo trasformare questo in javascript ok con una funzione che si chiama render che prende il contesto e fa l'output della stessa cosa e lui funziona che vi dà ancora più potere perché logicamente scrivendo in javascript avete molto più del singolo del singolo templating engine e come citavamo la scorsa volta è limitato i poteri cosmici esatto in un minuscolo spazio vitale perché alla fine il codice non è tantissimo spero sia stato chiaro abbastanza tanto su come ha detto Luca sul nostro slack quindi potete approfondire potete approfondire sia sul canale diretto ci sono vari commenti strumenti chiocciola venite venite se vi interessa io non forzo nessuno logicamente però se vi interessa sta qui non so se ci sono altre domande no abbiamo chiuso le volte 10 ti mando dalle bimbe motivo per cui sei sparito anche dalla nascita della prima alla seconda vabbè ragazzi che volete quello che è penso che insomma poi tra l'altro c'è stata pure questa maledetta pandemia per cui pure questo non è che ha aiutato ecco ultima versione nella versione che avete in azienda fate anche patching? no non lo usiamo per fare patching non rigeneriamo tutto da capo ogni volta nel senso facciamo questo template engine ci ha aiutato anche a fare il refactoring di cose perché abbiamo preso un componente la configurazione di un componente nel caso di Teragram è splittato in più parti e ha un parametro per cui se tu gli dici nelle location tipo questo qua il fatto che il template è null se tu fai così fai null invece di creati questo file questo file te lo cancella cioè nella nella PR ti fa il delete del file quindi tu gestisci tutto il life cycle del template della parte finale da cima a fondo perfetto Luca ti ringrazio grazie a voi